ed eccoci qui siamo in compagnia di Monica Gasparini e siamo venute a consegnarle il nostro invito ciao Monica grazie grazie per l'invito allora ecco a te lo leggo anche per voi invito a partecipare a shopping with the stars il primo dicembre 2012 tra poco al Fidenza Village Chic Outlet Shopping insieme per sensibilizzare sull'IDS quindi tu ci sarai moni io ci sarò ovviamente sì vi ricordiamo che tutto ricavato sarà devoluto ad Unlights Lombardia quindi come dico sempre siateci